Che ti succede? No, te ne stai lì ritto come un palo. Un chiodato come una lancia? No, immobile come la torre degli scatti. Più quello di un gatto di porcellana. È indegno che tu mi sottoponi a queste similitudini e metafore. Meta... Che sarebbe? Le metafore. Le metafore... E quando parli di una cosa paragonandola a un'altra. Che è una cosa che si usa nella poesia. Per esempio? Per esempio. Quando dici il cielo piange, che cosa vuoi dire? E... Stai più bene? Ma sì, bravo. Questa è una metafora. E... Che signo? Ebbè, perché c'è questa nuova così complicata? Gli uomini non hanno niente a che vedere con la semplicità o la complessità delle cose. Che signo? Chia. Grazie a tutti.